Eclettico e camaleontico, il suo impegno artistico spazia dalla televisione, al cinema, al teatro, all'attivo circa 50 film per il cinema, 20 per la tv, tanti cortometraggi, videoclip, animazione, doppiaggio per finire con la presentazione del Festival di Sanremo, pluripremiato con Davide Donatello, Nasti d'Argento, Globi d'Oro, cos'altro dire, Pierfrancesco Favino. Sei riuscito ad arrivare? Sono scappato, sì, sono qua, grazie mille. In realtà abbiamo dovuto cambiare programma perché Pierfrancesco Picchio sta facendo in questo momento, sta lavorando, proprio in queste ore. Mi sono scappato dal set e sto tornando sul set, visto che è una serata in cui saranno diplomati molti ragazzi, gli auguro la stessa cosa, di dover scappare da un set per ricevere una cosa così bella e tornarci. Che set è? Ci puoi dire quale set? Sono sul set di Muccino con cui ormai stiamo crescendo insieme, con Kim Rossi, Stuart, Claudio Santamaria e Michele Ramazzotti. Sono felicissimo di esserci, mi fa molto piacere continuare questo percorso di crescita insieme agli amici di tanti anni fa. Certo. Allora, io volevo ringraziarvi che finalmente ho il pezzo di carta. Ecco, questo che volevo dire, te lo stiamo per dare. Io vi ringrazio a nome di mamma, che proprio da tanto tempo, poi un'altra cosa, ho una motivazione, sto zitto. Poi magari c'hai argomenti di più per la mamma. No, voglio sapere se uno diventa dottore in recitazione, se poi può anche curare. Allora, diploma onore scausa in recitazione a Pierfrancesco Favino. È stato Gino Bartali, Giuseppe Di Vittorio, Giuseppe Pinelli, il generale della Rovere, Giorgio Ambrosoli e nella sua ultima applaudita interpretazione cinematografica, fino ad oggi almeno, Tommaso Buscetta, nel traditore di Marco Bellocchio. Ma non è l'eclettismo o il mimetismo la cifra stilistica di Pierfrancesco Favino, sempre ben riconoscibile anche in ruoli così differenti, ma la profondità del suo sguardo nell'interiorità del personaggio da interpretare. Un'adesione che va al di là della somiglianza con l'originale. La sua robusta presenza scenica, frutto di seri studi all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, si impone sempre e ovunque. Negli ultimi venticinque anni, dall'esordio in Pugili di Lino Capolicchio ai Moschettieri del Re, la penultima emissione di Giovanni Veronesi, passando per l'ultimo bacio, romanzo criminale, la sconosciuta, Saturno contro, l'industriale posto in piedi in paradiso, romanzo di una strage, le confessioni, a casa tutti bene e fortunate incursioni nel cinema internazionale, come Miracolo a Sant'Anna, Angeli e Demoni, Rush, Favino è uno dei volti della rinascita del cinema italiano. Così popolare e amato, da meritarsi la conduzione del più popolare e amato spettacolo tricolore, il Festival di Sanremo 2018, nel quale risalta, per simpatia, garbo e professionalità, doti che hanno illuminato fin qui la sua carriera. Grazie. La mamma sarà contenta? No, prima io, prima io, però poi anche mamma. Una cosa, vi ringrazio enormemente, ringrazio tutti voi, ringrazio chi ha pensato che io fossi degno di questa cosa, sono molto felice di farlo, lo ripeto, nel momento in cui tanti ragazzi si affacciano e vengono diplomati per questo mestiere, a questi ragazzi io auguro di fare la gavetta, e glielo auguro perché è importante, auguro a tutti voi di non avere un successo rapido, auguro a tutti voi di trovare la vostra strada nel momento in cui conoscete questo mestiere, e auguro a tutti voi di avere la pienezza di ciò che fate e non la spontaneità della giovinezza e basta. Questo richiede tanto lavoro e tanto impegno. Bravo, bravo, bravo. Grazie davvero. Vi chiedo scusa se torno dall'altra parte, ma se no, non mi pagano. Anche a te, lasciano tipia di polvere di stelle realizzata. Ma che meraviglia. Bellissima, tratta da un fotogramma. Grazie. E questa pure la mostro, così siamo contenti. Grazie davvero. E scusate la fretta. Lo sappiamo, lo sapevamo. Bocca al lupo a tutti. Era nel piano di lavorazione di questa serata. Grazie.